Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione, proposta dal consigliere Braia e sottoscritta anche da Pittella, Polese e Cifarelli, che impegna il Presidente della Regione ad opporsi in maniera assoluta a qualsiasi tipo di taglio al Fondo Sanitario Nazionale ed a relazionare sul tema in una riunione del Consiglio regionale appositamente convocata. Nei giorni scorsi è stata inviata alle Regioni la bozza del nuovo patto per la salute, che contiene le linee di indirizzo per la sanità nei prossimi anni e dal quale si immagina potrebbe scaturire una diminuzione dei trasferimenti. Ogni taglio, afferma Braia, si ripercuoterebbe sul nostro sistema sanitario regionale, che con tanti sacrifici è inattivo e ha rispettato i vincoli di bilancio. Grazie al lavoro della precedente giunta regionale, aggiunge Braia, non abbiamo mai conosciuto la criticità del piano di rientro, che invece ha colpito tutte le Regioni del Sud Italia in questi anni. Grazie a tutti.